Anche se non solo le festività vere e proprie, quelle di agosto, ma questa sera Sindaco Borrelli, la presenza di Mogol, rende questa serata pre-ferragostana forse la più importante di tutta l'estate ad Essana, o sbaglio? Sì, sicuramente è importante, importantissima, forse la più importante e l'abbiamo voluta per sancire anche che se siamo in epoca ancora di restrizioni sanitarie, tuttavia la vita deve riprendere, deve continuare, qual'occasione migliore di riprenderla con uno dei protagonisti della musica leggera, un grande autore, un poeta, un poeta che è una leggenda anche della musica, ma anche un uomo di grande cultura, come abbiamo potuto vedere anche durante la conferenza stampa, un uomo che sa suscitare emozioni, che delle parole sa trovare significato profondo, sa dire delle cose che restano, spesso tutti quanti usiamo delle parole, delle parole banali, le usiamo per la comunicazione quotidiana di tutti i giorni inevitabilmente, ma c'è chi lo fa in modo sublime, in modo poetico trovando delle parole, delle espressioni verbali, dei significati profondi che restano, attraversano le generazioni e questo è un fatto che riguarda la musica ma riguarda più in generale la cultura. Questa è una serata di grande musica, di grande cultura, che dedichiamo al nostro paese, al nostro territorio, con l'augurio e con la speranza che sia solo l'inizio di una nuova ripresa e di un nuovo rilancio, non solamente economico, ma anche culturale. Ci saranno comunque altri eventi culturali importanti, il decennale del Museo Sasso e altre manifestazioni in parte già svolte? Sì, c'è appunto il decennale di Sasso, anche lì con musica, musica classica, in quel caso dovremmo avere gradito ospite Alfredo Paglione, che è il mecenate che ci ha permesso appunto di avere queste opere e questo museo e anche il Ferragosta Tessano, che quest'anno per decisioni della curia del Vescovo non sarà sotto la guida e la direzione della parrocchia, del parroco, ma sarà organizzato all'amministrazione comunale, con i volontari, con le associazioni che ci danno una mano, ma anche lì in quell'occasione abbiamo delle serate, delle serate musicali importanti, proprio perché quest'estate deve essere un'estate che sancisce in qualche modo uno spartiacque tra quello che ci lasciamo alle spalle, che è stato un periodo molto duro, molto faticoso, fatto di restrizioni, di rinunce e di sacrifici, con la ripresa che deve essere davanti a noi e con il futuro al quale dobbiamo guardare tutti con fiducia, ripartendo appunto anche dal divertimento, dalla musica e dalla cultura. Signori, e il sindaco dice, signore e signori, buonasera, lo spettacolo comincia. Giulio Rapetti per tutti, Mogol! Grazie, 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 ah quanti siete? Bene, viva, e viva! Sindaco, ragazzi, grande amico mio Angelo, Valori e immaccabile Nduccio, per me è una leggenda, una leggenda. Allora Nduccio, distanti e non parlare mai verso di me. Maestro, io mi metto distante soprattutto perché mi puzzlo fiati. te l'ho detto in dialetto. Ah, capito. Allora siamo messi così? Sì, così dobbiamo stare. Ma mi posso girare verso di me? No, no, poco, poco girare. Quindi io, come fossi cieco, guardo davanti. Sì, bravo. Ho ragione o no? Sì, dobbiamo, voi sapete, voi sapete che ieri sono triplicati i contagi, quindi dobbiamo tutti essere responsabili. Dobbiamo divertirci, però attenzione. Io sarei capace. Purtroppo mi dispiace, ma è l'unica cosa che si può fare se si è responsabile. D'accordo? Sarei capace di ricordare che una volta il maestro a Castel di Sangro ha tenuto un incontro con una scolaresca di 400 ragazzi del quarto e del quinto. Per un'ora tutti quanti aspettavamo che parlasse di musica, di parole. Ha parlato dell'importanza della BIOS, della vita. E ho scoperto un grande professore di igiene e profilassi. Signori, non finiamo mai di stupirci, maestro Mogol. Eppur mi sono scordato di te, l'abbiamo appena ascoltato. Dopo di questo brano iniziale, grazie al maestro Angelo Valori, che dirige Medit Voice, e grazie a tutto il gruppo. Tutti belli, eh? Tutti belli. Adesso è la volta dei Giardini di Marzo. E io so che in questa canzone, praticamente tu hai riposto le tue memorie di infanzia. Sì, è vero. I fiori non ancora appassiti, cos'erano? Allora, era il vestito di mia mamma, che aveva delle roselline, era nero con delle roselline, e che quando ho scritto, io mi meravigliavo che non fossero appassiti, perché la mia famiglia è una famiglia giovanissima. Mia mamma aveva 21 anni, quando sono nato mio papà 24, ed erano giovani che facevano fatica, insomma. Lavorava, mio papà lavorava lui, e la mia mamma lavorava in casa. E quindi lei aveva un vestito, quello bello, era sempre lo stesso. E quindi io mi meravigliavo che i fiori, vedendolo continuamente, non appassissero. Ma pensate che un grande pittore, poeta, che si chiama Michelangelo Pistoletto, per dirvi quanto è grande, basti ricordare che lui ha venduto l'ultimo quadro 7 milioni di euro. Quindi voglio dire, è proprio un grande, ha concesso due pagine al Corriere della Sera, e il titolo era I fiori non ancora appassiti. E si riferiva proprio ai Giardini di Marzo, a questa frase. Mi ha fatto molto piacere, chiaramente. Un quadro che è stato dipinto da un artista locale, per questa occasione Lucio Cellucci, il nostro compaesano, che ha voluto dedicarle e regalarle questo quadro. Grazie, grazie di cuore. Dietro c'è il campanile che forse se lo porterai a casa, suonerà pure a loro. Allora, lo mettiamo poi da parte, così. Ci sono altri piccoli omaggi? Allora, poi, sì, prego. Scusate, voglio complimentarmi con il maestro Valori. Sì, poi saremmo arrivati anche a lui. E con tutti questi bravissimi interpreti, musicisti, perché sono proprio... è stato un bel lavoro. Hanno dato nuova vita a queste canzoni. Molto bravi, eh? Complimenti a tutti. E anche a questo pubblico. Maestro, le tue canzoni, la loro musica, hanno trasformato questa piazza, seppure molto sparpagliata. Poteva sembrare disattenta e difficile da conquistare. È stato un salotto veramente culturale questa sera. Ti ricordi? E di una parola che ho scoperto poco fa nell'etimologia italiana. Non so se tu sai che hai questo merito. La parola emozione, prima della tua canzone, veniva usata molto poco e non gli si attribuiva lo stesso senso. Quindi la tua canzone, tu chiama adesso e vuoi, è diventato un momento per far cambiare anche la profondità della lingua con questa parola. Grazie. E l'etimologico non è induccio. Grazie. Grazie a tutti. Altri piccoli pensieri? Allora, grazie, mi fai da Valletto. Allora, questi sono, maestro, due nostri prodotti locali. Sono due liquori, produzione locale, di due grandi case produttrici qui, il Vallaspra e il San Pasquale. noi gliele doniamo così quest'inverno quando, oppure anche durante quest'estate con un po' di ghiaccio, oppure quest'inverno, ricorderà a tessa il calore di questo cuore. Grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore. Questo non è un pensiero, maestro, è che quando berrai questi i pensieri se ne andranno. Grazie. L'inizio della fine. E poi le lasciamo anche, come ricordo, alcuni libri della nostra città, del nostro Museo Sasso, della nostra Pinacoteca Milale e potrà così ammirare le bellezze di questa città. Grazie, grazie a voi. Non so se sai, maestro, visto che la tua signora è una grande pittrice, qui c'è un museo dedicato ad Aligi Sasso, che era praticamente come fosse adottato a da tessa. Ed è un bellissimo museo che io magari ti consiglio di visitare. Senz'altro, grazie. Allora, intanto noi vogliamo anche ringraziare e complimentarci, come ha fatto già lei, maestro, con questa bellissima band e con il maestro Angelo Valori. Grazie di aver accettato di venire qui a da tessa. Per noi anche questo è stato un grande piacere e ci ne tenevamo tanto e voi avete fatto di tutto per essere qua. Lascio anche a voi un piccolo omaggio. Grazie. Grazie. E l'innoviso quel silenzio tra noi e in questo sguardo strano ti cade il fiore dalla bocca e poi con un fermo ti prego la mano come se è stata cosa hai fatto mai una donna 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai io non conosco quel sorriso sicuro che hai non so chi sei non so chi sei non hai paura oramai purtroppo ma ti ricordi l'onde grande noi gli spruzzi e le tue risa non sei rimasto in fondo agli occhi tuoi la fiamma è spettata e accesa tu eri chiaro e trasparente come me oh mare nero mare nero mare tu eri chiaro e trasparente come me il sole il sole tanto sorce sorce è chiaro e poi la luce si diffonde tutto è tutto a noi le ombre le trattate nella notte sono arme e c'è scone ancora e fiori sono ciò che tutta notte allora vieni d'amore outras i le ombre le ombre le ombre di le ombre la il il s Grazie.